Scandalo in tv, Andrea Giambruno balbetta in diretta e scatena la furia. Prima di iniziare ti invito ad iscriverti, mettere un like, commentare e condividere. Sembra che l'ultima apparizione di Andrea Giambruno sul piccolo schermo abbia portato più sorprese del previsto. Il noto compagno della leader politica Giorgia Meloni è finito nel mezzo di un vero e proprio polverone dopo una clamorosa gaff durante il programma Diario del Giorno su Rete4. Tutto sembrava procedere normalmente, con Giambruno e altri ospiti che discutevano dell'episodio di Cronaca di Palermo, quando il giornalista ha pronunciato una frase che ha fatto sobbalzare tutti quanti. «Se non ti ubriachi, non ti fanno niente», ha dichiarato, scatenando l'indignazione generale. Il commento ha immediatamente fatto il giro sui social media, scatenando una valanga di critiche e indignazione da parte del pubblico. La gaff di Giambruno ha sollevato un'ondata di polemiche, con molti che lo hanno accusato di insensibilità e mancanza di tatto nei confronti delle vittime di violenza. Il giornalista è stato accusato di colpevolizzare le vittime e di esprimere un messaggio negativo che sembra giustificare l'aggressione se la vittima non era ubriaca. Le critiche piovono su Giambruno da ogni angolo, con molte persone che chiedono provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Si vocifera che la rete televisiva stia prendendo in considerazione l'adozione di misure contro di lui, dato il clamore suscitato dalla sua dichiarazione scioccante. E chi è stata la prima a fare sentire la sua voce di protesta? Niente meno che Cecilia Delia, senatrice del PD e vicepresidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio. Delia ha condannato aspramente le parole di Giambruno, definendole inaccettabili e chiedendo un cambio di rotta. La senatrice ha sottolineato che non si può giustificare un comportamento violento in base a quanto una donna beve. La polemica sembra essere ancora lontana dalla conclusione, con molte voci che si alzano per chiedere spiegazioni e scuse da parte di Giambruno. Resta da vedere come questa situazione si evolverà e se il giornalista prenderà provvedimenti per affrontare il danno d'immagine causato dal suo scivolone televisivo. Non resta che tenere d'occhio gli sviluppi e vedere come si risolverà questo implicato caso da gossip. Restate sintonizzati e iscrivetevi al nostro canale News Gossip World.